Ciao ragazzi, oggi parliamo di uno dei più grandi scienziati del Novecento, Jean Piaget. Jean Piaget è uno degli esponenti del cognitivismo e in particolare con un approccio di tipo costruttivista. Che cosa vuol dire? Il cognitivismo è quella corrente che tende a pensare che all'interno della costruzione del pensiero della mente umana non ci siano semplicemente elementi di input, di stimoli e di risposta, di abitudini che si vanno a consolidare con l'esperienza ma che ci sia una complessità di stimoli che vanno a creare piano piano funzioni mentali superiori come il ragionamento, il linguaggio, l'apprendimento, la creatività e così via. Ecco quindi che il cognitivismo apre tutta una nuova chiave di riflessione all'interno del mondo della psicologia ma anche della pedagogia. In particolare, secondo la corrente costruttivista, il soggetto va a costruire piano piano una immagine dell'oggetto analizzato interiorizzandola nella propria mente. C'è quindi un'interazione tra la struttura mentale del soggetto e l'oggetto da analizzare. Questo approccio scientifico va a creare una struttura circolare che piano piano arricchisce sempre di più l'intelligenza, la mente, il ragionamento, il pensiero, il linguaggio del soggetto. Anche lo scienziato che lavora seguendo la corrente costruttivista va quindi ad interagire lui stesso all'interno dei suoi studi perché il ricercatore quindi interagisce con la realtà modificandola. Il principale esponente, dicevamo, di questa corrente è Jean Piaget. Jean Piaget, infatti, va a definire il campo in particolare nei termini di epistemologia genetica. Che cosa vuol dire? L'epistemologia vuol dire lo studio di come riuscire a capire come le persone vanno a costruire il loro sapere vanno ad accrescere la loro conoscenza del mondo e va ad aggiungersi quindi l'epistemologia non solo alla filosofia ma anche ad altri rami come appunto dicevamo la psicologia e la pedagogia. Va quindi Jean Piaget a pensare che l'apprendimento sia un processo di continua assimilazione di raggiungimento di un equilibrio che piano piano porta al soddisfacimento di nuovi bisogni. Vediamo quindi chi era nel dettaglio Jean Piaget. Nasce nel 1896 a Neuchâtel in Svizzera e si può dire un enfant prodige perché già ad 11 anni va a fare la sua prima pubblicazione su un passero albino visto in un parco. Continua poi a fare una serie di studi col museo di storia naturale del suo paese e in particolare sui molluschi va quindi a fare degli studi di malacologia. Pubblica diversi articoli tanto da essere diciamo contattato dal museo di storia naturale di Ginevra che gli chiede quindi di fare delle collaborazioni ma siccome non ha ancora finito di studiare deve Jean Piaget rifiutare l'incarico di lavoro. Nel 1918 si laurea in scienze naturali all'università di Neuchâtel e nel 1920 ottiene il dottorato. Dopo sei mesi trascorsi all'università di Zurigo dove inizia a studiare psicoanalisi si trasferisce poi a Parigi. Qui studia filosofia e psicologia alla Sorbonne e viene in contatto con uno dei più grandi studiosi di psicologia del tempo Alfred Binet che stava quindi conducendo dei test di intelligenza sui bambini per riuscire ad andare a analizzare il loro livello. Nel 1921 poi Jean Piaget sarà nominato direttore dell'Istituto Jean-Jacques Rousseau di Ginevra e inizierà quindi a questo punto a fare tutti i suoi ampi studi sugli schemi mentali e la costruzione mentale in particolare nell'età evolutiva nei bambini, nell'infanzia. Va quindi a fare un lavoro di ricerca di psicologia dello sviluppo dettagliatissimo con molte pubblicazioni possiamo ricordare Il linguaggio e il pensiero del fanciullo del 1923 Giudizio e ragionamento del bambino del 1924 La rappresentazione del mondo del fanciullo del 1926 La causalità fisica del bambino del 1927 o Il giudizio morale nel fanciullo del 1932. La sua carriera accademica quindi dal punto di vista psicologico, sociologico, pedagogico prosegue sia all'Università di Neuchâtel che all'Università di Ginevra che all'Università di Lausanne ed è l'unico docente ad aver insegnato anche alla Sorbonne di Parigi. Nel 1955 fonderà poi il Centro Internazionale dell'Epistemologie Genetique e dirigerà poi il centro fino all'anno della sua morte avvenuta nel 1980. Ma passiamo adesso ad analizzare a grandi linee il pensiero di questo ricercatore. Lo sviluppo psichico comincia con la nascita e termina con l'età adulta. È paragonabile alla crescita organica come quest'ultima consiste essenzialmente in un cammino verso l'equilibrio. Ecco, così inizia lo sviluppo mentale del bambino una delle opere principali appunto di Jean Piaget e ci fa subito capire come la ricerca dell'equilibrio nel percorso di crescita sia un elemento fondamentale. Per riuscire quindi a continuare a costruire l'intelligenza ci sono interazioni con l'ambiente ma anche funzionamenti mentali che vanno a soddisfare i bisogni umani. Ad ogni azione corrisponde quindi prima un precedente bisogno che deve essere soddisfatto. L'azione si conclude quando si ha soddisfazione dei bisogni cioè quando si è stabilito l'equilibrio tra il fatto nuovo che ha provocato il bisogno e la nostra organizzazione mentale quale si presentava anteriormente ad esso. Ecco, quindi in questa affermazione si capisce che appena si raggiunge un momento di equilibrio è poi necessario diciamo di nuovo uno sbilanciamento per poi riorganizzare mentalmente la propria attività cognitiva per riuscire a passare diciamo ad una fase successiva. I meccanismi di sviluppo si basano fondamentalmente per Piaget in base a due concetti assimilazione e accomodamento. che cosa vogliono dire? L'assimilazione vuol dire che il soggetto incorpora i nuovi dati in strutture già esistenti. Invece l'adattamento l'accomodamento vuol dire che le strutture preesistenti sono riadattate appunto riaccomodate con nuove informazioni in base a nuovi elementi. e quindi si va a costruire diciamo così un nuovo adattamento un nuovo accomodamento da parte della mente del soggetto. Va quindi Piaget ad individuare diversi stadi di sviluppo in base all'età. Naturalmente questi stadi non vanno pensati in modo rigido perché poi si rende conto benissimo Piaget ci sono delle differenze individuali tra un soggetto e l'altro. Il primo stadio che va dalla nascita ai due anni è lo stadio senso motorio. in questo stadio la principale diciamo componente è quella proprio della gestione dello spazio e della gestione del tempo presente per il bambino. Nel primo mese di vita ci sono dei riflessi che vengono diciamo così stimolati da bisogni forti come il riflesso di suzione o la prensione o la rotazione del capo e quindi poi da questa prima fase dal primo al quarto mese di vita si passa invece a uno stadio di reazione circolare primaria. è questa una fase in cui si tende a cercare un'azione ripetuta una prima coordinazione degli schemi soprattutto a livello visivo e uditivo quindi il neonato osserva molto anche se magari non vede ancora benissimo lontano ma vede solo a fuoco da vicino e va a cercare quindi questo collegamento dai quattro agli otto mesi di vita le reazioni circolare diventano secondarie cosa vuol dire? vuol dire che viene ripetuta un'azione per produrre un certo effetto sull'ambiente e quindi qui si affinano le capacità di manipolazione e di prensione dei bambini in particolare c'è il gesto di aprire la mano e lasciar cadere l'oggetto ad esempio poi dagli otto ai dodici mesi si crea un'altra fase in cui c'è una coordinazione maggiore con i fini del proprio agire e questa è la fase della permanenza dell'oggetto cioè anche se si nasconde un oggetto non so un sacchiotto di peluche sotto una coperta il bambino sa che quel peluche ancora lì non è diciamo scomparso dai 12 ai 18 mesi c'è la fase delle reazioni circolari terziarie in cui il bambino va a modificare l'azione e studia gli effetti della sua modificazione ad esempio se c'è un giocattolo con le ruote e la cordina prova a prendere la cordina e tira trascina se è il giocattolo per vedere l'effetto della traiettoria o se cade da un lato quindi va a interagire maggiormente in questo senso dai 18 ai 24 mesi il bambino inventa nuovi mezzi per risolvere i problemi cioè inizia a ripetere anche in contesti diversi comportamenti che ha appreso precedentemente e che ha visto magari anche compiere da qualche altra persona inizia quindi a cantare magari una nina nanna una bambola o inizia a fare dei piccoli giochi di finzione di imitazioni iniziano proprio in questa fase le prime attività simboliche che vanno a costruire le immagini mentali che aiuteranno lo sviluppo del linguaggio lo sviluppo del linguaggio per Piaget infatti è un'attività simbolica che consente quindi più agevolmente di andare poi a costruire gli schemi mentali e non viceversa come pensano altri studiosi il secondo stadio è lo stadio preoperatorio dai due ai sette anni nello stadio preoperatorio quello che appunto cui c'erano avremmo per fare pensiero simbolico è predominante in particolare ci sono giochi di finzione come giocare non so al negozio giocare al dottore e il linguaggio va ad essere utilizzato come strumento di narrazione per le azioni passate in questa fase piano piano ci sono un apprendimento innumerevole di vocaboli e anche di capacità che vanno piano piano a affinarsi sempre di più caratteristico fino appunto ai sette otto anni è l'egocentrismo infantile cioè il bambino fatica a cambiare punto di vista cioè pensa che il proprio punto di vista sia universale valga anche per tutti gli altri c'è anche la componente del realismo cioè il bambino considera reale ciò che è visibile e quindi non riesce a distinguere ancora bene il mondo della fantasia per esempio dei cartoni animati dal mondo reale se vede la televisione l'animismo cioè pensa che ci siano elementi di vita ecco in oggetti inanimati l'artificialismo cioè fatica a riuscire a distinguere quelli che sono gli oggetti costruiti dall'uomo in fabbrica artificiali dagli oggetti invece appartenenti alla natura il finalismo cioè che il bambino va a pensare che ogni oggetto sia stato fatto costruito ecco con una finalità precisa non so per esempio la luna serve per illuminare la notte lo stadio successivo dai 7 ai 12 anni è lo stadio delle operazioni concrete in questa fase il bambino impara a classificare a ordinare gli oggetti e va a capire elementi di studio della realtà come la conservazione della quantità della sostanza del numero e il suo pensiero diventa anche reversibile cioè in grado di capire che 1 più 2 fa 3 e che 2 più 1 fa 3 ugualmente ecco è anche capace di classificare e di fare anche operazioni di inclusione e di seriazione lo stadio delle operazioni formali è invece quello diciamo dell'adolescenza quindi dai 12 anni in avanti fino all'età adulta ed è caratterizzato questo periodo da un pensiero che è prevalentemente astratto viene cioè a svilupparsi una capacità di astrazione che consente all'adolescente di svolgere operazioni cognitive basandosi su elementi concetti come la possibilità la probabilità il caso l'infinito e riesce a riflettere su leggi scientifiche anche complesse chimiche fisiche e a risolvere problemi molto complessi dice Piaget il pensiero concreto è la rappresentazione di un'azione possibile mentre il pensiero formale cioè quello astratto è la rappresentazione di una rappresentazione di azioni possibili quindi questa idea della possibilità va a implicare una forma diciamo di complessità astratta notevole che va a essere talvolta anche subordinata a sistemi teorici cioè si crea un po' di rigidità magari mentale ecco si chiama lo chiama Piaget un egocentrismo adolescenziale cioè l'adolescente fatica poi a essere flessibile ad ascoltare maggiormente magari gli adulti il mondo degli adulti e questa forma poi di egocentrismo adolescenziale dovrebbe passare per trasformarsi a poco a poco in una forma di maggiore equilibrio tra pensiero e realtà ma passiamo a vedere adesso un passo proprio del libro lo sviluppo mentale del bambino di Jean Piaget edito nel 2000 in cui descrive proprio il momento della formazione del pensiero e del linguaggio in particolare indica tre funzioni simboliche importanti per questo momento cruciale della vita mentale del bambino il gioco simbolico l'imitazione differita e l'immaginazione mentale ecco l'immaginazione mentale è proprio la parte più astratta in cui si va già a vedere in nuce diciamo così un'attività mentale di schematizzazione di elaborazione dei concetti simile a quella che poi verrà costruita appunto nella futura adolescenza ma qui siamo in uno stadio precedente di sviluppo non siamo in adolescenza allora il gioco simbolico il gioco simbolico appare circa contemporaneamente al linguaggio ma indipendentemente da esso e svolge una funzione notevole nel pensiero dei bambini piccoli soprattutto come fonte di rappresentazioni individuali contemporaneamente cognitive ed affettive e di schematizzazione rappresentativa parimenti individuale per esempio la prima forma di gioco simbolico che ho osservato in uno dei miei bambini consisteva nel far finta di dormire un mattino ben sveglio e seduto sul letto di sua madre il bambino vede in un angolo del lenzuolo che gli ricorda l'angolo del suo cuscino e dobbiamo dire che per addormentarsi il bambino teneva sempre con una mano l'angolo del suo cuscino e si metteva in bocca il pollice di questa mano e prende allora l'angolo del lenzuolo chiude la mano ben stretta e mette il pollice in bocca chiude gli occhi e sempre seduto fa un largo sorriso abbiamo in questo caso l'esempio di una rappresentazione indipendente dal linguaggio ma riferita ad un simbolo ludico consistente in gesti appropriati che imitano quelli di solito accompagnati da una determinata azione ecco bisogna ricordare che Jean Piaget fece i suoi studi proprio anche sui suoi bambini anche se oggi comunemente a livello scientifico questo non è una prassi utilizzata perché all'interno della relazione padre figlio c'è comunque un elemento di affettività di amore di complicità che va magari a inficiare i risultati della ricerca è un punto di vista privilegiato perché nessuno come il padre ricercatore sa riconoscere vedete proprio il significato mentale del bambino piccolo che va in questo caso a far finta di dormire quindi a giocare ad addormentarsi il gioco simbolico è quello della nanna ma vediamo adesso il secondo elemento quello dell'imitazione di ferita l'imitazione di ferita o imitazione che si verifica per la prima volta in assenza del modello corrispondente e pone questo esempio una delle mie bambine per esempio si era sorpresa nel vedere un suo piccolo amico fare i capricci gridare e pestare i piedi in sua presenza non aveva reagito ma dopo che se ne fu andato aveva imitato la scena ma senza collere alcuna da parte sua quindi aveva visto una scena e poi in un secondo momento appunto imitazione di ferita in un secondo momento sa riprodurre quella scena ma senza la partecipazione emotiva che aveva messo naturalmente quel bambino perché non le apparteneva quell'emozione era solo la scena che andava a essere imitata copiata c'è poi l'ultima appunto funzione simbolica importante per la costruzione del linguaggio che è quella dell'immaginazione mentale in terzo luogo possiamo anche classificare tra i simboli individuali ogni forma di immaginazione mentale come attualmente sappiamo l'immagine non è né un elemento del pensiero stesso né una continuazione diretta della percezione è un simbolo dell'oggetto che si manifesta ancora a livello dell'intelligenza senso motoria in tal caso la soluzione di molti problemi pratici sarebbe assai più facile l'immagine può venire concepita come un'imitazione interiorizzata l'immagine sonora è un'imitazione interiore del suono corrispondente e l'immagine visiva è il prodotto di un'imitazione dell'oggetto della persona sia con il corpo intero sia con i movimenti degli occhi quando si tratta di una forma di piccole dimensioni ecco questo esempio dell'immagine sonora cioè di riuscire a pensare una ninna nanna a pensare una canzone senza cantarla a fior di labbra è un esempio proprio di immagine mentale potente che ci fa capire come all'interno della nostra mente sia possibile ripetere elementi anche in assenza dell'elemento stesso e quindi solo immaginandoli in modo figurato ecco la nostra lezione di oggi finisce qui e abbiamo conosciuto quindi questo enigmatico mondo mentale dell'infanzia dalla nascita fino ai 18 anni grazie a questo grandissimo studioso di tutti i tempi e in diversi ambiti in diverse discipline abbiamo visto che è Jean Piaget e la vostra professoressa Florio anche oggi vi saluta e vi do appuntamento alla prossima lezione a